Saluto tutti i devoti di Padre Pio da Pietrecina. Sono Nicola Gori, il postulatore di Carlo Cutis, che il prossimo 10 ottobre viene abbiatificato ad Assisi. Per quelli che non conoscono Carlo Cutis, Carlo Cutis era un piccolo grande devoto di Padre Pio, piccolo perché è morto solo 15 anni di leucemia fulminante e grande perché aveva preso dai genitori la devozione a Padre Pio da Pietrecina, tanto che ha voluto farsi portare a visitare il santuario dedicato al grande santo. Solo due parole per dire, per sottolineare un aspetto principale di Carlo. L'aspetto che vorrei proporvi alla vostra riflessione è questo, la fede. La fede di Carlo era incrollabile, la fede era per lui l'elemento principale di tutta l'esistenza. Senza la fede non si può spiegare né la figura né il messaggio di Carlo Cutis. Ecco, Carlo Cutis aveva forte dentro di sé la sensazione della presenza di Dio, sentiva Dio come un amico, sentiva Gesù come una persona accanto a lui che lo seguiva, lo aiutava, lo accompagnava in tutti i momenti della giornata. Questo suo aspetto del riconoscere nella quotidianità alla presenza di Dio è fondamentale per capire come un ragazzino della sua età abbia potuto raggiungere le vette della santità. Non ci sono dubbi che per Carlo Dio era qualcosa di vivo, era qualcosa di vero, addirittura quasi tangibile, perché lo vedeva nei fratelli, lo vedeva nella chiesa, lo vedeva specialmente presente nei sacramenti. Ecco, tra tutti i sacramenti Carlo aveva una predilezione per l'eucaristia che chiamava la mia autostrada per il cielo, cioè il modo e il mezzo più rapido per giungere al cielo e quindi l'eucaristia diventava lo strumento necessario per raggiungere la santità e per raggiungere l'eternità nella beatitudine. Ma l'eucaristia era anche per lui un modo per ringraziare Dio per tutti i suoi benefici. Lui diceva spesso che non è necessario compiere grandi cose, ma basta entrare in chiesa, basta entrare un attimo nelle nostre chiese che spesso sono deserte e troviamo lì Gesù presente nel tabernacolo. Ecco, Gesù è la portata di tutti, è la portata di chiunque voglia accoglierlo. È questo il messaggio grande che Carlo ci trasmette, la fiducia in Dio, la fiducia in Gesù. Gesù si è fatto uomo per stare in mezzo a noi, Gesù si è fatto uomo per accompagnarci in tutti i momenti della giornata. È un grande messaggio quello che Carlo ci lascia, è anche una grande eredità perché un ragazzino della sua età che ha vissuto nella carità, nella completa disponibilità e nella preghiera, pensate, recitava quotidianamente il rosario e si faceva accompagnare dai parenti ogni giorno alla messa. È qualcosa che lascia dentro di noi spazio alla riflessione, ci lascia, ci interpella, non ci lascia indifferenti. Quindi lasciamoci anche coinvolgere da questo ragazzo che ha saputo attraverso i sacramenti raggiungere la pienezza della vita e della grazia. Carlo ha anche un altro aspetto che è quello della riscoperta della parola di Dio. Sappiamo che fin da piccolo voleva fare il catechista e nonostante la giovane età gli fu concesso, il suo parroco gli concesse di insegnare il catechismo in anticipo rispetto all'età con cui si fa. E questo bisogno di essere apostolo, questo bisogno di trasmettere agli altri la fede, era in Carlo impellente, lo sentiva come un dovere e un bisogno. Non era qualcosa di imposto, qualcosa di passeggero, ma lo sentiva una necessità perché voleva condividere la ricchezza della scoperta dell'amore di Dio con chiunque incontrasse il suo cammino. Ecco, anche con noi in questo momento ci chiede di aprirci e di essere accoglienti all'azione di Dio. Carlo non potrà mai lasciare qualcuno indifferente di fronte alle cose di Dio. Questo è fondamentale per capire perché la parola di Dio, la Bibbia, letta e riflettuta, rivestiva in Carlo un ruolo importantissimo subito dopo l'Eucaristia. Lui chiamava la Bibbia come la bussola, la bussola per orientarsi nel cammino della vita, la bussola per orientarsi nel cammino alla ricerca della santità e la bussola alla ricerca dei fratelli. Perché? Perché nella Bibbia trovava gli spunti per agire, gli spunti per muoversi di conseguenza secondo gli insegnamenti, secondo gli precetti e secondo la ricchezza della parola di Dio. Quindi pensate, a soli 15 anni ha raggiunto una maturità spirituale tale da poter offrire a ognuno di noi almeno queste due colonne oltre la Vergine Maria, quindi l'Eucaristia, la parola di Dio e la Vergine Maria. Ecco, senza la Vergine Maria Carlo non si può comprendere. Sappiamo che amava molto visitare i santuari mariani, sia in Italia che all'estero. Era devotissimo della Vergine di Pompei, della Madonna di Loreto, ma anche di Lourdes e Fatima e con i genitori si era fatto accompagnare durante l'estate a fare dei tour, diciamo, mariani per i santuari. Non dimenticava anche di visitare, oltre il santuario di Padre Pio da Petralcina, anche quello di San Michele Arcangelo sul Gargano, perché vedeva in San Michele Arcangelo un argine contro il dilagare del male e un argine contro il demonio. Ecco, sappiamo che per Carlo la preghiera era qualcosa di essenziale, era qualcosa di incontenibile e da non poterne fare a meno. E attraverso la preghiera agli angeli e a Maria, lui riusciva ad ottenere le conversioni e riusciva anche a cambiare i cuori. Quante persone si sono accostate ai sacramenti dopo aver parlato con Carlo quando era in vita? E quante grazie spirituali accadono ancora adesso per sua intercessione, senza parlare poi dei veri e propri miracoli di guarigione? Ecco, io vi raccomando, ascoltate Carlo, ascoltate questo grande devoto di Padre Pio da Petralcina e cercate di imitarlo in questi suoi aspetti. L'amore verso l'Eucaristia è il prossimo, l'amore verso la Vergine Maria e l'ascolto obbediente alla parola di Dio. Grazie, buona festa!